Allora, eccoci qua, sono tornato da un weekend spettacolare a Roma dove sono stato a fare un corso sul fitness emozionale. Cosa sia fitness emozionale? Beh, un corso di tre giorni, spiegarlo in pochi minuti sarebbe ingiusto e sarebbe un po' in realtà folle. Quello che però voglio passarti come concetto è quello che in realtà mi sono portato dietro nel modo più facile e comprensibile possibile. Ebbene, il messaggio è questo, che è quello un po' che era chiuso in questo cartello che abbraccia, dove c'è scritto che puoi avere dei risultati o puoi avere delle scuse. Quello che non puoi avere è entrambe le cose. E perché ti dico questo? Perché molto spesso quello che facciamo, ed è un concetto che ho già accenato altre volte e di cui parlo purtroppo molto, molto, molto intensamente durante le mie giornate al lavoro, è quello che tendiamo a darci delle scuse. Troviamo delle scuse per tutti e siamo fantastici in questo. E a volte lo sappiamo anche, ma piuttosto che ammetterlo, piuttosto che appunto intraprendere un'altra decisione, continuiamo ad andare avanti con le nostre scuse. E quello che succede è che poi i risultati che vogliamo non si ottengono. Quindi il fitness emozionale è un allenamento che ti permette di giocare da un certo punto di vista e avere il controllo sulle tue emozioni. Nelle emozioni ci rientra anche il concetto di cavolo io voglio davvero ottenere un certo tipo di risultato e per farlo devo eliminare le scuse. Non è assolutamente facile. Molto spesso si ha bisogno anche di qualcuno, di una spalla su cui magari poter fare affidamento e che possa trainarci. L'invito che ti faccio è quello di trovarla a questa spalla, di avere il coraggio, l'umiltà, la volontà, se davvero vuoi raggiungere un certo tipo di obiettivo, di chiedere aiuto in un certo senso. Soprattutto se sei alle prime armi, se sei ai primi passi, se non hai idea di dove sbattere la testa, metti da parte le emozioni negative, metti da parte tutte le scuse. Se vuoi iniziare una dieta, cavolo, domattina alzati e inizia a chiederti come posso iniziare a fare, dove posso andare, a chi posso chiedere. Ovviamente noi in negozio siamo specializzati in questo. questo. Io personalmente investo una marea di tempo, di studio per cercare di migliorarmi, per poterti dare il miglior risultato possibile. Quindi l'invito che ti faccio è quello di davvero domattina alzarti e dire cavolo, devo veramente iniziare a portare dei cambiamenti nella mia vita e smettere di avere questa parte qua, le scuse, che è la parte più facile ed è la parte forse a cui siamo più abituati e con la quale conviviamo in maniera molto anche agevole alle volte. E quindi fai una promessa a te stesso, da domattina niente più scusi e tutti focalizzati sui risultati. Io ti aspetto in negozio e a presto. Ciao!